buongiorno a tutti eccoci qua oggi voglio presentarvi una ricetta semplicissima e velocissima da fare per i nostri bambini come merenda o come colazione genuina e veramente deliziosa e soffice morbidissima è una torta allo yogurt inseriamo le nostre uova nel recipiente con lo zucchero e montiamo i tuorli con lo sbattitore una volta che abbiamo reso bello spumoso il composto stoppiamo e procediamo ad amalgamare tutti gli ingredienti aggiungiamo all'interno della bull i nostri 400 grammi di yogurt magro zero grassi e procediamo ad impastare ecco una volta amalgamati bene le uova e lo yogurt cominciamo ad aggiungere l'amido di mais e il lievito per dolci inseriamo nella bull le nostre in ogni i nostri albumi con un pizzico di sale e partiamo per montare amore ferma una volta raggiunta questa consistenza aggiungiamo le chiare d'uovo aiutandoci con una lecca pentole e impastando dal basso verso l'alto per non far smontare il composto eccoci qua allora l'impasto è pronto bello spumoso spumoso lo mettiamo all'interno di uno stampo a cerniera dopo averlo imburrato infarinato ora non ci resta che infornare a 170 gradi per circa 50 minuti mi raccomando fate sempre la prova stecchino prima di decidere se il vostro dolce è cotto oppure meno eccoci qua diamo una sistematina una piccola lisciatina con il lecca pentole ecco e procediamo ad infornare ci vediamo dopo eccoci la nostra meraviglia appena sfornata i vostri bambini si delizieranno con questa merenda adesso non ci resta che spolverare con lo zucchero a velo e tagliarne una bella fettuna morbidissima e profumatissima eccoci qua abbiamo spolverato con zucchero a velo e ora ne facciamo una bellissima fetta soffice 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 ragazze è una vera delizia soffice si ma beh buon appetito a tutti è un abbraccio ai vostri bambini e e